buongiorno amici in questo breve e facile tutorial andiamo a vedere come aggiungere quella barra che sempre più spesso vediamo apparire nella parte alta dei siti internet che andiamo a visitare per farvi un esempio stiamo parlando di questa barra che è l'informativa sull'utilizzo dei cookie nei siti internet come vedete qui compare una barra con scritto questo sito utilizza cookie per migliorare servizi ed esperienze lettori noi dovremmo accettare ok e questa barra sparirà come fare per inserire questa barra sull'informativa dei cookie al nostro sito internet su wordpress allora dobbiamo andare innanzitutto nel nostro sito e andare nella bacheca del nostro sito quindi nell'amministrazione a questo punto andiamo su aspetto editor ci si aprirà una pagina dei temi dove c'è l'editor qui c'è selezionato il tema che stiamo utilizzando qui nella barra laterale dovremmo scendere fino a cercare piedi pagina footer php ci clicchiamo sopra scendiamo fino in fondo nel codice e vediamo che qui troveremo body qui è la chiusura del body noi appena prima della chiusura del body dovremmo andare a inserire un codice quindi ci posizioniamo sopra la chiusura del body recuperiamo questo codice e lo copiamo copia chiaramente poi questo file ve lo metterò a disposizione così lo copierete anche voi facciamo incolla lo incolliamo mi raccomando prima della chiusura del body facciamo aggiorna file ora che il file si è aggiornato andiamo a vedere cosa è successo alla nostra pagina del nostro sito internet installato su wordpress se noi facciamo l'aggiornamento della pagina ora vediamo che qui nella parte bassa è comparso il banner questo sito utilizza i cookie per migliorare la navigazione dei lettori se continui la navigazione consideriamo che accetti il loro uso se noi ora andiamo a cliccare su ok questa barra sparirà mentre su info ci riporterà un'informativa sui cookie come fare per fare in modo che questa barra se vogliamo farla apparire non nella parte bassa del nostro sito ma bensì nella parte alta che forse è più visibile allora ritorniamo nell'amministrazione del nostro sito quindi nella bacheca sempre su aspetto temi footer php e ritorniamo nel codice che abbiamo copiato prima allora ci posizioniamo all'inizio del codice quindi il codice comincia qui vedete codice per accettazione cookie inizio scendiamo un po' fino a qua dove leggiamo bottom 2.0 selezioniamo soltanto bottom e al posto di bottom sostituiamo la parola top senza fare altro aggiorniamo il file ora ritorniamo sul nostro sito come vedete qui il banner è sotto nella parte bassa della pagina ora andando ad aggiornare il sito vedete che il banner è comparso nella parte alta della pagina quindi se noi qui ora clicchiamo su info potremo aggiungere un link sull'informativa dei cookie se clicchiamo su ok questo banner sparirà vediamo come fare a inserire questo link allora io ad esempio ho preso questa pagina che dà delle informative su cosa sono i cookie facciamo copia ritorniamo nella nostra amministrazione come sempre aspetto temi io sto utilizzando l'ultimo tema di wordpress che è il 2015 per questo esempio torniamo sempre su piedi pagina torniamo nel nostro codice e qui su url pagina info copiamo il link a cui vogliamo che questo pulsante ci rimandi quindi facciamo incolliamo e facciamo aggiorna file in questo modo vedremo che torniamo sul nostro sito installato su wordpress e vediamo che ora il nostro banner cliccando su info saremo rimandati alla pagina precedente vedete cookie fuck che non è una parolaccia ma è frequently asked questions vedete mentre se cliccheremo su ok questo banner sparirà e noi potremo tranquillamente continuare la navigazione bene spero che questo breve tutorial molto facile tutorial vi sia stato utile se vi è stato utile vi invito a mettere un mi piace e eventualmente anche a commentare questo video anche se non vi è stato utile ma questo video vi è piaciuto vi invito a mettere un mi piace e io intanto vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti